Sì, amore, ma ti smizzi. Come dai, guarda dopo, se ti sapevo che ci siete dopo, vai. Va bene, vai. Allora andiamo, a notte sono a casa dura. Perfetto, ora risolvo il problema, ho lo sciacquone perché mi sei intasato il gabinetto e non mi va giù. Aspetta un secolo, sento uno smasciato di là, non so chi sta combinando di là. Aspetta. Ehi, vuoi che c'è? Che ha finito un gabinetto? Ora ci devo andare io. Serpente assonagli, ora si è intasato anche il gabinetto, ma è che ci ha buttato dentro? Ma ora si è chiamato il pozzarello, è che ci ha buttato qui dentro, guardate. E ci sono io, o il panno non è agibile perché sta prendendo su tutto, non so se è intasato? La tua donna, la ci butta gli assorbenti, e te più ci butta i cordon fiocchi. Ah, io, veramente tu sai che tu fai maloppo e dopo un bagiù lo sciacquone? Tutte le volte tu fai da mangiare, perché cosa si sta dura e cagli tutti? Piuttosto, guarda un pochino se tu chiami lo spurgo, perché qui c'è un macello, soldi fuori tutto. Ma è che fai? Ma cosa fai? Eppure che non ti batti 100-100, lascia te lo dire. La porta, io, un da faro. Chiamalo Spurgo 2001 e digli, ti ci mando io. Spurgo 2001, il che tu c'hai, il pozzo pieno, un ti scorre l'acqua, chiama Spurgo 2001, di Durgoni Pietro. Come ne ne vota lui, o ne ne vota nessuno. Come ne vota lui, o ne vota lui, o ne vota lui, o ne vota lui.